... Penso che sia una cosa positiva distribuire delle fiaschette riutilizzabili ma penso anche che sia un comportamento piuttosto dubbio perché giustamente dopo il plastic free secondo noi ci dovrebbe essere anche il cemento free perché semplicemente ci viene chiesto nel foglietto se sia un comportamento adeguato distribuire certe cose e poi ci vengono richiesti dei consigli e come consiglio potrei dare applicate realmente tutte le leggi che ci stanno perché semplicemente applicando le leggi potremmo salvaguardare l'ambiente della spiaggia mentre adesso ci ritroviamo con dei pezzettini di spiaggia libera mentre tutto il resto viene occupato e soprattutto quei pezzetti di spiaggia libera vengono in qualche maniera sporcati, demoliti e soprattutto sotto sotto si sa bene chi opera in questi ambienti Grazie per la domanda Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti